Due cagnette sono state trovate morte in via delle matamorfosi a Sulmona, si presume che abbiano mangiato bocconi abbelenati. Visto che il fatto è accaduto per i due episodi nella stessa zona e che sempre in via delle matamorfosi, ieri è stato rinvenuto un gatto morto a ridosso di un marciapiede. Per collettezza di informazione dobbiamo dire che non si ha ancora certezza che gli animali siano stati abbelenati, in quanto le autorità competenti ancora non si pronunciano ed attualmente sono in costo gli accertamenti per appurare l'eventuale decesso per veleno e di che veleno si tratti. Abbiamo ascoltato la signora Gabriella Tunno che gestisce il canile comunale ed è notoriamente persona che ha grande attenzione per i nostri amici a quattro zampe. Sono due cagnette, poi ho chiamato le guardie Zofre per controllare la zona ed hanno trovato anche un gatto morto in quella zona lì. L'hanno portato ad Avezzano per farlo esaminare per vedere che tipo di veleno ha preso il gatto e i cani purtroppo non ce l'hanno fatta, sono morti due cani padronali. Aspettiamo gli esiti della ASLE, intanto faccio richiesta per un cane antiveleno alla forestale per vedere dove stanno queste polpette, dove sono. Intanto i volontari della Guardia Ecozofila Nazionale, la GEN, stanno pattugliando la zona cercando eventuali tracce ed informando i proprietari di animali di prestare la massima attenzione affinché non mangino qualcosa in mezzo all'erba o per la strada. I volontari nella loro attività di controllo accertano la presenza del microchip con particolari strumenti in dotazione. Intanto in quella strada è stata tagliata l'erba ed il pericolo che eventuali bocconi abbellenati si siano stati triturati e disseminati in zone quindi più ampie. Ci troviamo in via delle metamorfosi per svolgere un nostro normale servizio di routine sul controllo della popolazione canina e controllo degli animali, anche sui noti fatti che sono usciti sul giornale e su Facebook per ciò che riguarda la non curanza dei cani. Oggi purtroppo abbiamo anche noi trovato un animale morto, un gatto. Abbiamo attivato la ALS nella persona del dottor Micarella che ha assicurato che verrà subito a rimuovere l'animale. Abbiamo notizio che una decina di giorni fa altri due animali sono stati trovati morti in via quadrario a Solmona. È buona norma che i proprietari dei nostri amici a quattro zampe abituino gli animali a mangiare solo dalla ciotola e non da incerti bocconi in strada. Si attendono comunque risposte dalle autorità competenti circa la morte per avvelenamento o meno degli animali rinvenuti in via delle metamorfosi. La signora Tunno ci ha anche informato di aver allertato in proposito la guardia forestale che pare di sponga di cani appositamente addestrati per la ricerca di bocconi avvelenati. Intanto la stessa ci ha assicurato che giovedì presenterà denuncia contro i gnoti sull'episodio. Intanto i possessori di cani che sono nella zona sono stati allertati per denunciare alle forze dell'ordine qualsiasi azione o attività sospetta.